Lautaro Martinez, Teo Hernandez, strascichi di un derby di Milano dal finale veramente rovente, una sconfitta che sicuramente brucia ma che non può e non deve assolutamente almeno secondo me cancellare quanto di buono è stato fatto fino ad ora. In questo episodio però prima di chiudere il capitolo in terminal e prima di voltare definitivamente pagine a concentrarci poi ai prossimi impegni che sono veramente più importanti di tutto questo chiacchiericcio voglio soffermarmi in questo episodio di oggi su un episodio che appunto sta facendo molto discutere in queste ore e mi riferisco ovviamente all'incredibile caso mediatico perché di questo si tratta di un caso mediatico montato ad arte circa questo video appunto in cui Lautaro Martinez va da Teo Hernandez, Teo Hernandez è giocatore del Milan che era già stato espulso e quindi stava uscendo dal campo nel finale di Inter Milan uscendo dal campo provoca i tifosi interisti Lautaro Martinez risentito va da lui e diciamo che non gli rivolge delle frasi molto amichevoli ecco di sicuro Lautaro non ha invitato Teo Hernandez a bersi una birra poi al pub dopo il derby ma sporgendosi appunto mentre Teo Hernandez esce dal campo gli rivolge delle frasi ecco anche abbastanza chiaramente non carine diciamo così ma che nel calcio capita e capita anche molto di peggio e e vi mostro appunto questo frame un brevissimo video che trovate praticamente su tutti i social veramente ovunque e e da questo video come vi dicevo è partita poi una campagna mediatica impressionante veramente impressionante tramite la quale stanno cercando di dire che Lautaro Martinez avrebbe sputato in direzione di Teo Hernandez uno sputo che è stato smentito da Lautaro Martinez è stato smentito dall'Inter di fatto dallo stesso Teo Hernandez che non si è accorto di nulla e non ha detto nulla e quindi possiamo direi direi con relativa certezza anzi possiamo assolutamente dire che lo sputo non c'è non esiste ed è totalmente inventato quindi chi continua a guardare ma forse c'è un riflesso sul vetro forse qualcosa forse una linea chi va a chiamare eh CSI e investigatori privati per cercare di capire se questo sputo c'è o meno o è fazioso probabile o è addirittura in malafede punto non ci sono altre vie d'uscita anzi forse potrebbe avere anche qualche problemino di in tal caso lo invitiamo ad una visita ma non ucuristica più profonda ecco perché c'è un problema serio evidentemente da da risolvere comunque io inizialmente non volevo nemmeno commentare questa cosa e volevo lasciare andare per non darle nemmeno nemmeno risalto poi però che cosa è successo è successo che il caso da social dove comunque io posso capire tra tifosi soprattutto milanisti che vivono un po' in un loro mondo parallelo posso capire che questa cosa possa aver preso piede l'hanno eh rimbalzata l'hanno fatta crescere eccetera e e ci può stare che i tifosi magari ne parlino e pur essendo le immagini piuttosto chiare però la cosa che mi ha fatto un po' scattare ed innervosire da parte mia è quando il caso da social si è trasformato in un qualcosa di più ingigantito perché ripreso da giornalisti dai quali ci aspettiamo sempre che le notizie prima anche solo di sollevare il dubbio le verifichino questo è un po' eh quello che ci aspettiamo e eh soprattutto poi sollevando il dubbio alcuni sono andati oltre alcuni si sono limitati a dire forse c'è uno sputo presunto sputo giallo sputo altri hanno cominciato invece anche ad additare Lautaro Martinez e a dare per certo che avesse sputato ecco e eh la cosa che secondo me tra l'altro andrebbe poi studiata e riguarda anche un po' tutto il periodo storico è chiaro che nel momento in cui qualcuno trova una figura che eh è un giornalista che quindi dovrebbe godere di una autorevolezza e di una verifica delle fonti del quindi gode quindi di una fiducia diciamo così da parte del pubblico se io che ho questa teoria complottista trovo eh nel giornalista di riferimento una sponda a questa cosa è chiaro che la cosa assume ancora un peso maggiore e lo stiamo vedendo appunto in queste ore con il grande ecco che ehm che sta avendo la la notizia appunto e quindi oggi apriamo i quotidiani tutti i quotidiani aprono con o comunque all'interno dei vari articoli scrivono del giallo sputo del presunto sputo e frati e frasi simili. Arrivati a questo punto quindi mi son detto eh non ci sto sinceramente e almeno nel nostro piccolo almeno all'interno della community di Passione Inter invito tutti i nostri ascoltatori a fare attenzione a questi segnali e soprattutto a non farsi ingannare a non cadere nelle trappole e restare veramente uniti soprattutto in questo momento. Io oggi non voglio aprire casi su complotti vari e e accerchiamenti vari però ho una sensazione strana. Avverto qualcosina di strano attorno al al come viene trattata anche l'Inter da questo punto di vista. Ma rimanendo nel caso specifico del caso Teo Hernandez, Dottoro Martinez eh nel momento in cui una palese invenzione social finisce poi anche sui quotidiani e molti giornalisti la riprendono eh è lecito appunto che agli occhi dei tifosi questa cosa venga ulteriormente accentuata e poi va bene che tu nell'articolo mi scrivi però lo sputo non c'è stato e tutti lo smentiscono però la gente gli articoli non li legge si ferma i titoli si ferma i tweet e soprattutto si ferma quello che fa comodo quello che conferma quelle che sono le proprie convinzioni in pochi secondi e quindi già solo sollevare il dubbio agli occhi di alcuni certifica qualcosa che in realtà non c'è stato e ehm e qual è l'effetto di questa cosa grave secondo me l'effetto di questa cosa è che tra le altre cose passa magari in secondo piano la provocazione di Teo Hernandez che andava espulso molto prima durante la partita e vedremo se ci saranno strasciche se ci sarà qualche provvedimento aggiuntivo per per Teo Hernandez oppure passa in secondo piano il fatto che il fallo di Giroud su Sanchez è enorme ed è un fallo che permette al Milan di fatto di vincere il derby perché la vittoria del Milan è una vittoria episodica è una vittoria che va bene che l'Inter non ha chiuso la partita e va bene che dovevamo fare di più dovevamo stare tra zero il primo tempo non si può prendere un gol così non si possono commettere errori di questo tipo e soprattutto non puoi permetterti l'errore di avere un blackout cosa che abbiamo visto anche con la Lazio e in altre occasioni ma se tu arbitro guida della sezione di torre annunziata mi fischi un fallo sacrosanto su Alexis Sanchez il derby rimane uno a zero e poi vediamo come va a finire vediamo che cosa succede oggi di questa cosa già non se ne parla più anzi per quanto è stato sollevato questo polverone vedo che si parla addirittura di tenere d'occhio la situazione di Inzaghi e Bastoni dipinti come molto nervosi nel finale in realtà io ho visto un video anche dove Bastoni va a separare Teo Hernandez che era rientrato in campo nel finale di partita quindi sono curioso di vedere che cosa succederà adesso oggi si parla più di questo e sono convinto sinceramente che questo episodio probabilmente è stato montato e spinto così tanto che a un certo punto rimarrà un po' nella storia nella mente dei nostri tifosi avversari come è rimasta l'immagine sempre con Lautaro protagonista tra l'altro Suttoloi in Inter Atalanta vi faccio vedere un frame per chi se lo fosse dimenticato ma state tranquilli che ogni volta in cui l'Inter subisce un torto c'è un errore arbitrale contro l'Inter puntualmente i tifosi delle altre squadre ci dicono eh però quella volta Lautaro Suttoloi non te la ricordi ecco a parte che per trovare un qualcosa di dubbio nei nostri confronti devono tornare indietro di anni questo è il primo anno di Conte io quell'intervento me lo ricordo e se non ti fermi al frame in questo qui incriminato ma guardi il video ti accorgi che prima c'è fallo sull'autaro per dire ma a parte questo io vorrei ripetere e vado in chiusura il messaggio che avevo lanciato anche ieri quello di rimaniamo compatti e soprattutto manteniamo l'equilibrio perché perché vediamo che dobbiamo far fede dobbiamo farci forza solo tra di noi non non troveremo sponde all'esterno del mondo interista perché se in estate ci davano per morti a settembre ottobre eravamo una squadra in lotta per la Champions alle spalle della Juventus poi improvvisamente quando le altre erano in difficoltà e quando l'Inter è tornata fuori è emersa e ha cominciato a immaginare risultati ci hanno portato lì e vedevamo che i quotidiani ci spingevano tanti titoli benevoli e quant'altro ora guarda caso la prima difficoltà quando le partite cominciano a pesare quando squadre hanno bisogno di risalire e di tornare in alto guarda caso torna prepotente il rumore dei nemici visto che siamo in tema col ritorno di Mourinho tra l'altro a San Siro uno che dovrebbe averci insegnato qualcosa da questo punto di vista quindi non diamo corda a questi casi soprattutto se montati ad arte c'è qualcuno che evidentemente ha spinto per far uscire queste cose e ci ha soffiato sopra da un lato chi vuole destabilizzare sicuramente dall'altro c'è anche poi chi guadagna dalle letture i click le interazioni noi su Passione Inter per fortuna innanzitutto non abbiamo più intenzione di parlare di queste cose a meno che non ci venga fatto qualche altro torto molto grave di questo tipo altrimenti dicevo per fortuna il sostegno dei nostri abbonati permette al progetto Passione Inter di sostenersi e di uscire dalle logiche dei click a tutti i costi per cui possiamo permetterci di parlare di quello che vogliamo e quando vogliamo senza dover rincorrere click casi presunti gialli e cose varie e in questo caso per chiudere vogliamo e voglio dire testa al campo solo e soltanto a campo è uno dei momenti decisivi della stagione ma io sono convinto che nonostante qualche problema che sicuramente non abbiamo risolto ma lo sapevamo d'altronde se in estate sembrava tutto finito non potevamo pensare l'anomalia sarebbe stata vincere lo scudetto a febbraio come ho detto tante volte l'anomalia sarebbe stata quella non rimanere invidico e doverlo sudare eventualmente fino fino alla fine fino all'ultimo però in questo derby abbiamo dimostrato di essere di un altro livello rispetto al Milan che appunto per me resta una squadra di un livello inferiore all'Inter nonostante appunto il vantaggio di non giocare la Coppa Italia potrà concentrarsi l'Europa scusate potrà concentrarsi soltanto sul campionato di fatto stanno montando un odio di un livore nei nostri confronti che è veramente clamoroso ma noi non dobbiamo cadere in questa provocazione in queste trappole mi raccomando ci vediamo poi in diretta per Inter Roma dalle diciannove e quarantacinque per commentare quella che deve essere la nostra unica il nostro unico obiettivo in questo momento prima di proiettarci poi a Napoli Inter di sabato altra gara molto molto importante mi raccomando iscrivetevi al canale qui sotto trovate il tastino iscriviti se volete c'è anche il tastino abbonati per sostenere appunto il nostro progetto tramite gli abbonamenti se mi avete seguito fino a qui come al solito questa volta vi chiedo le emoji dei pallini nerazzurri perché in questo momento più di tanti altri momenti bisogna essere interisti e dobbiamo rimanere uniti mi raccomando ci vediamo in diretta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti